Ciao, sono Elena Tubertini e ho da poco terminato la maturità classica al liceo Minghetti di Bologna. È proprio durante questi ultimi tre anni che mi sono avvicinata a un laboratorio pomeridiano chiamato Mai Più Violenza, in associazione con il progetto Alice. L'obiettivo di questo laboratorio era quello di avvicinare i giovani alla tematica della violenza sulle donne. Grazie a questo laboratorio abbiamo prima prodotto due video su questa tematica e poi siamo state invitate a numerose conferenze, tra cui la conferenza della UNICEF che si è svolta un anno fa sui diritti delle bambine, la conferenza al Comune di Bologna sui diritti umani e la conferenza del 25 novembre in Regione Emilia-Romagna, Primo passo educare. Inoltre, questo 8 marzo 2016 abbiamo appunto presentato, sempre in Regione, la nostra mostra fotografica sempre in collaborazione col progetto Alice, chiamata Che cos'è l'amore? Partendo da questo, ora che mi sono iscritta a psicologia, ho intenzione di aprire un blog che si chiamerà Give Me Voice. Sarà una piattaforma in cui i giovani, e non solo, potranno scrivere anche anonimamente e chiedere consigli e informazioni e mettersi in contatto con le associazioni che si occupano di violenza contro le donne. Ho lanciato una campagna su Patreon per finanziare il mio progetto. Con Give Me Voice riusciremo a dare voce a chi fino ad ora è stato messo a tacere. Grazie a tutti.